Bene, eccomi qua. Come promesso andiamo a fare il video per le classi seconde che riguarda il teorema di Pitagora. In particolare ho assegnato un esercizio, ovvero di ritagliare quattro triangoli rettangoli uguali e di giocare con queste figure in modo da formare dei nuovi poligoni o quantomeno, io ho detto, formare delle figure che ci ricordano la leggenda che ha permesso a Pitagora, osservando le mattonelle, di formulare il suo famoso teorema. Quindi quella che vedete è una dimostrazione geometrica del teorema di Pitagora utilizzando direttamente i triangoli rettangoli. Allora, i triangoli rettangoli, immaginiamo di avere dei triangoli così, quindi hanno il cateto maggiore di 3 caselle, il cateto minore di 2 e l'ipotenusa che è il lato più lungo di una certa misura. Questo triangolo è chiamato triangolo rettangolo perché ha un angolo retto, l'angolo dove c'è il vertice A e possiamo replicare questo triangolo per andare a formare un altro tipo di figura. Andiamo a vedere qual è. Quindi, di nuovo segmento, di nuovo poligono, 1, 2, 3 e chiudo. L'ultimo, 1, 2, 3 e chiudo. Et voilà! I quattro triangoli rettangoli disposti in modo tale da formare un quadrato grande A, D, F, H formato praticamente da cinque quadrettoni ma anche un quadrato all'interno. Questo quadrato obliquo di colore bianco. I lati che abbiamo all'interno del quadrato riguardano il lato più lungo dei triangoli rettangoli. Quindi gli diamo un nome l'andiamo a chiamare lato del ipotenusa ipotenusa ok, il lato si chiama ipotenusa come vedete la fa ruotare vabbè, no, però è importante aver scritto ecco, ipotenusa ipotenusa ma anche questo qua questo si chiama ipotenusa e anche questa è l'ipotenusa magari spostiamola facciamo muovi così posso spostare in corrispondenza il lato tant'è che questo è chiamato il quadrato costruito sull'ipotenusa ora cosa andremo a fare ci spostiamo un pochettino verso destra utilizziamo sempre gli stessi triangoli rettangoli questi quattro triangoli rettangoli di colore blu e li disponiamo in un altro modo per osservare un'ulteriore cosa cosa che aveva studiato Pitagora e che gli ha permesso di formulare il suo famoso teorema li andiamo a disporre così quindi sono gli stessi identici rettangoli triangoli rettangoli di prima ma sono disposti in modo diverso per aiutarvi inserisco anche questi punti per farvi capire che m, p, i, l è un quadrato non è stato congiunto ma è un quadrato l, n, q, k è un quadrato potevamo congiungere anche questi pezzi per capire meglio il tutto e l'altra cosa importante da anzi fatemelo un po' congiungere quindi da qui a qui da qui a qui questo è un quadrato anche da qui a qui da qui ecco l'altro piccolo quadrato che cosa dobbiamo scrivere? dobbiamo scrivere come si chiamano questi altri lati allora questo si chiama cateto maggiore anche questo qui cateto maggiore mentre quest'altro piccolo è cateto minore anche questo di qua cateto minore quindi quelli che non sono lati lunghi più lunghi sono i cateti chiaramente tra i cateti ci sarà quello maggiore e quello minore possono anche essere uguali ma per triangoli quindi non isosceli ma qualsiasi triangoli rettangoli qualsiasi questi sono chiamati cateti maggiori e minori cosa si nota? si nota che innanzitutto i due quadrati grandi sono equivalenti perché il quadrato A D F H è formato da 5 quadrettoni a un lato di 5 quadrettoni ma anche il quadrato P O Q J è formato da 5 quadrettoni quindi l'area è la stessa l'altra cosa che si nota è che all'interno di quest'area ci sono 4 triangoli rettangoli blu tutti uguali li abbiamo sia nel primo grande quadrato e li abbiamo anche nel secondo sono disposti in maniera diversa ma come abbiamo imparato anche col tangram se disponiamo in maniera diversa le figure l'area non cambia quindi che si può dire alla fine Pitagora cosa ha capito? che questo triangolo bianco a cui posso dare un nome chiamiamolo ad esempio Q grande con 1 vediamo se mi fa la formula latin ecco Q con 1 è uguale a Q con 2 più Q con 3 facciamo anche sposto leggermente per dare più spazio alle mie Q ecco posso anche scrivere la formula scrivo qua Q con 1 uguale a Q con 2 più Q con 3 scrivo anche in lettere il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente al quadrato alla somma somma dei quadrati costruiti sui cateti forse un po' esagerato ha scritto tutto ma se usa la formula latex ci vogliono anche gli spazi quindi così e qui ci andrebbero tutte le tildi quindi faccio in questo modo allora innanzitutto prima inserisco la formula latex il quadrato costruito sul cateto uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa poi scrivo normalmente quindi il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti ecco già va molto meglio sposto metto più al centro il quadrato costruito sull'ipotenusa è quello che ha come lato ipotenusa quindi è q con 1 è uguale uguale oppure è equivalente meglio ancora perché parliamo di aree è equivalente a che cosa alla somma che c'è il più dei quadrati costruiti sui cateti q con 2 più q con 3 perché vale questa formula perché vi ho spiegato se l'area iniziale composte da 5 quadrettoni è come una specie di recinto un campo dove ci sono quattro case di forma triangolare e quindi un campo all'interno la parte bianca anche in quest'altra figura immaginando una specie di recinto e delle case triangolari però messe in maniera diversa da quelle precedenti la quantità di terreno coltivabile anche se si è spezzettata è la stessa di quella di prima visto che il recinto non si è allargato le case non si sono allargate quindi si sono semplicemente spostate le aree prima le abbiamo tutte unite e invece qui si sono spezzate in due parti chiamate a q con 2 e q con 3 questo è un teorema importantissimo perché lega i lati del triangolo rettangolo quindi ha permesso nel corso del tempo di fare moltissime moltissimi passi in avanti nella costruzione edile nella costruzione tecnologica nella costruzione anche nell'applicazione di vari teoremi poi successivi il teorema di Pitagora si usa per dimostrare moltissime cose in matematica ma anche una funzionalità proprio pratica cioè ti dà delle misure ti mette in relazione le misure del cateto dei cateti con l'ipotenusa esistono anche le formule inverse e quindi li vedrete piano piano va bene quindi è tutto vi saluto e alla prossima